Ben ritrovati, ci sono canzoni che entrano nella storia anche grazie ai suoni dei loro strumenti e questo capita spesso alle chitarre suonate naturalmente dai grandi artisti. Ecco che è un po' questo che è accaduto alle chitarre della leggenda del rock e in particolare a quella di Mark Knopfler. Nella sede londinese di Christie's, infatti, la nota a casa d'aste si è tenuta, qualche tempo fa, un'asta benefica da record. Protagoniste dell'evento Le Storiche Chitarre, del frontman della band britannica dei Dire Straits. La punta di diamante dell'otto è stata una Gibson Le Paul Standard del 1959, battuta per la cifra record di 812.841 euro, che si è portata a casa al titolo di valutazione più alta mai raggiunta da questo modello. La Gibson Le Paul Standard fu suonata da Knopfler nel corso di due storici tour con la band, il Sailing to Philadelphia Tour nel 2001 e il Kill to Get Crimson Tour del 2008. Altro pezzo unico andato all'incanto è stata la Le Paul del 1983, usata per registrare canzoni come Money for Nothing e Brothers in Arms. La chitarra aveva inoltre fatto capolino nel 1985 sul palco del mega concerto benefico collettivo dello storico evento Live Aid. Lo strumento è stato venduto per 694.300 euro, ben oltre il listino di Christie's che l'aveva stimata tra gli 11.000 e 17.000 euro. E allora ci sembra anche giusto e soprattutto un'ottima occasione per ricordare e poi riascoltare insieme proprio Money for Nothing, un brano tra i più iconici e leggendari dei Dire Straits contenuto in uno degli album più venduti di sempre, Brothers in Arms del 1985. Il pezzo fu scritto da Mark Knopfler in collaborazione con Sting. Il frontman dei Police partecipò anche alla registrazione della canzone nella quale cantò l'intro e i cori riprendendo le note di Don't Stand So Close To Me proprio dei Police. Ma come nacque quella collaborazione? Beh, a raccontarlo è stato proprio il grande chitarrista di Dire Straits durante un'intervista radiofonica per Ultimate Classic Rock Nights. Knopfler ha spiegato di non avere alcun rimpianto per il fatto di avere condiviso i diritti d'autore con Sting perché fu proprio lui a voler lavorare con l'allora cantante dei Police e a chiedergli di collaborare al pezzo. L'idea gli venne ripensando alla famosa pubblicità di MTV nella quale i Police proclamavano all'unisono I Want My MTV. Ho visto la band in quella promo, dicevano quella frase tutti insieme e ho pensato se ci mettessi sopra le note di Don't Stand So Close To Me funzionerebbe, ha raccontato appunto Knopfler. Knopfler, il chitarrista, aveva già in mente come impostare il tutto, aveva individuato nella voce di Sting quella perfetta per realizzare il suo progetto e così poi è stato. E allora riascoltiamo proprio questo storico brano con anche la storica chitarra poi andata all'incanto. A presto!